signore e signori eccoci qua siamo con delle ragazze fantastiche secondo me voi ragazze venite penso solo a vedervi da reggio emilia come hai fatto a indovinare? ma no ma dai una cosa così vi è venuta le emiliane le emiliane hanno un altro sapore un altro odore un altro profumo perché giustamente lo state trassudando esatto lo stiamo trassudando e siete in giro da un po voi ragazze siamo in giro da un'oretta e mezzo quindi io da stamattina alle 9 veramente però vabbè sei in giro a fare festa? no sono a lavorare a lavorare è il mio quarto addio nubilato comunque questo ma nella storia o la crosta no 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 non è che si è sposata quattro volte 4 addio nubilato quindi quattro gruppi di amiche diverse e quattro sei super seguita dalle amiche una cosa vuol dire che qualcosa in 30 anni l'ho fatto di giusto cosa dici? eh sì 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 avrai veramente delle doti incredibili non te le chiedo non te le chiedo non chiedo non chiedo non chiedo siamo su youtube le doti incredibili delle ragazze emiliane ma noi sappiamo fare i cappelletti i cappelletti i cappelletti i tortelli esatto siete molto brave a fare i cappelletti sì perché si sa che le emiliane sono molto brave in cucina siamo delle resdore delle resdore cioè delle resdore e poche quelle che fanno più e poche di una volta ah siete tutte massaie in pratica tutte tutte abbiamo degli agriturismi ah veramente gestite? sì 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 noi abbiamo un agriturismo a testa perfetto però noi siamo venuti qua perché voi avete fatto la differenza ragazzi grandissimo mi piace mi piace no veramente eh è chiaro dopo vogliamo organizzare anche noi delle feste a nubilato ce li baso noi siamo venuti qua per copiarvi l'idea fondamentalmente va bene noi siamo contenti che il nostro format si diffonda perché la nostra missione è fare felici le persone e dove non possiamo arrivare noi ci arrivate voi va vero? va bene ragazze? ok ok promesso 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 che farete felici le persone? senza tutto tutte tutte le persone in qualsiasi modo in qualsiasi maniera? no in ogni luogo in ogni lago esatto in ogni modo in ogni lago perfetto al lago di Garda al lago di Garda stasera la nostra sposa che si chiama? Cinta che viene da Reggio Emilia viene da Reggio Emilia si sposa il 27 agosto perfetto e le amiche? le amiche sono Mara Federica e Gabriella perfetto ragazze unitevi alla sposa e dite la vostra missione la vostra missione per il futuro sarà? fare tutti? fare tutti felici! vai con i capelletti alla Reggio Emilia esiste?